Modalità walk e via bello il giro eh quasi pedala ho visto delle ruote all'aria ma dovremmo arrivare a Bertignano dico avete pantaloni lunghi no per il freddo io ce li ho medi ma voi ce li avete lunghi per le rose non per il freddo aha la motori a mi che meraviglia Ah buonissimo! Ma adesso se fa freddo non si droga in avanti Ma i primi due sono davanti o hanno fatto un'altra strada? Sì, sono davanti Sì, ma loro sono davvantaggiati Durando polvere Tanto? Ancora Ho fame Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Abbiamo anche la musica Vai, vai, vai 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 Ma dov'è? Sì È tu È qualcosa di più pulito no? Ma stiamo aprendo una nuova traccia di sicuro prima o poi finisce ma è giusto andiamo a incorciare la strada ma cerchiamo apposta sbagliate o? ahahahah voilà ahahahah aspettate fermi ma sappiamo dove siamo prelle ok ok ci caldiamo ogni tanto più o meno mi raccomando quando è ripida non frenate perché con la mano destra tengo la luce non riesco a frenare pozza non Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, infatti devo prendere una seconda.